Buongiorno a tutti ragazzi sono LackItalia e oggi siamo tornati su Tjock Story Mod Eravamo rimassi nell'ufficio ragazzi Allora io dell'ufficio ho bruttissimi ricordi Veramente orrendi Tu sei zitto zio Ok infatti eravamo riusciti più volte Ad arrivare verso la fine più o meno Verso le 5 del mattino Soltanto che poi tipo Freddy mi aveva jamscherato all'ultimo E quindi quest'oggi ragazzuoli Voglio provare a vincerla Allora teoricamente fino più o meno a luna di notte Dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo Dopo luna di notte arrivano i problemi perché si punta Chica E quindi diventa tosta Ok raga sono le 5 Sono le 5 Dai eh Allora io spero vivamente che non ricompaia No mi ha rotto anche quella cam Mannaggia lui Mannaggia Bonnie Mannaggia E ora secondo me può arrivare Freddy Prova ad aprire proviamo Ok meno male Meno male che l'ho mandato via Meno male se no quello là Mi jamscherava malissimo Qua? C'è qualcuno? Allora aspettiamo ad aprire Vediamo se qua c'è C'è Freddy? Non c'è nessuno Allora mandiamo via Foxy Muoviamoci Ok meglio non rifare più questa mossa Meglio non rifarlo più Non è stata una bella mossa Ma io sento dei passi comunque Cioè o sarà una mia impressione però Non penso proprio Non è che sono dietro di me No Molto inquietante come cosa Non riesco a capire Di chi sono quei passi Strani Qua c'è qualcuno? Sì c'è Freddy Qua? Qua nessuno Guardiamo se qua c'è anche Foxy No c'è soltanto Freddy Mandiamo via Freddy Muoviamoci va No 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 È arrivato Lì è arrivato Foxy Mandiamola via Muoviti Manda via Foxy Dai 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 Che devo mandare via Anche Cica Arrivano tutti quanti ora Mandala via Ok uno Gli altri Due Il terzo Il terzo Muoviti Dove è il terzo? È qua? Dai Anche Cica se ne va Anche Cica se ne va Ok grandissima Qua c'è qualcuno? No Mi ha rotto la cam Annaggia Annaggia Mannaggia veramente No 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 Di nuovo perso Vero? E invece sì Ma vai a cagare Vai a cagare Freddy nascondiamoci Io mi nascondo qua Io mi nascondo Mi nascondo Dai Dai mi sono nascosto zio Non mi dovresti prendere Teoricamente non mi vede Mi sono nascosto E porca miseria Porca miseria Non riesco a superare Questo livello di Emmental Porca trota Uuuuuh Foxy Sei calmina Ti fucilo Se continui così Volpe di merda Che non sei altro Che è arrivato? È arrivato qualcuno? Ho paura di sì No non c'è nessuno Muoviamoci Prendiamo il cupcake Apri Ok Gli altri Dove sono? Uno è qua L'ultimo Però c'è Foxy che mi ha bussato È qua? Sì è qua Ma andiamola via Vai 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 via Vai via Ok prendiamo l'ultimo cupcake Dov'è? Stai zitto zio Due l'ultimo cupcake È qua Ok Porca troia Porca troia Ragazzo Ragazzo Stai guardando come un pazzo Come un pazzo proprio Voglio Voglio provare a vincerla Oh no E dai E dai Ma perché l'ultimo ho perso? Perché ho perso? Perché perdo? Vabbè a cagare va Io ma Mannaggia Annaggia zio Ma perché perdo? Ragazzi Allora È un altro giorno Questo Il giorno dopo Rispetto alle clip precedenti Perché Stavo sclerando così tanto Che mi sono rotto Le palle Di continuare a giocare E ho mollato E mi sono informato Però E noi perdevamo sempre Alla fine Per colpa di freddi Perché Ed è quello che ho capito Dobbiamo spaventare Dieci volte freddi Se non spaventiamo Dieci volte freddi Alle cinque del mattino Ci viene E ci jumpschera Quindi Dobbiamo jumpscherarlo Dieci volte Questa è la prima Altre nove Dai Che se va bene Forse riusciamo a vincere Perché noi perdevamo sempre Per quello Perché non sapevo il motivo Ora lo so E forse Riusciamo A portarlo a casa Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Dai tre 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 Dai Otto Nove Manca l'ultima volta E poi possiamo fregarcene Di freddi Finalmente Ok Dai Dai Anche la decima Anche la decima Ok Ora Possiamo anche fregarcene Di freddi Dobbiamo arrivare alle 5 del mattino In Columi Mannaggia Vai Muoviti Ok Però c'è anche Cica Dai Muoviti 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 Prima che sca Cica Da quel buco Ok Dai Ok Raga 5 del mattino Devo resistere circa due minuti Circa due minuti Ce lo posso fare Dai 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 E qua Uno Oh Oh Vinto Oh Finalmente Raga Finalmente Non ce lo facevo più Non ce la facevo Più Finalmente Ho vinto Ragazzi Per questo video Finalmente È tutto Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio Arrivederci a tutti ragazzi Graseri E'